Nel cuscito dell'elita è arrivato Elio De Silvestro, che è un giocatore di scuola Juve, ha delle caratteristiche un mancino che gioca maggiormente a ruolo invertito. Ripeto, per quanto riguarda il mercato e compito la società, quindi non intendo mai merito, loro sanno quello che magari c'è bisogno di fare, ma ripeto, sono strafelice della mia rosa e mi auguro di recuperare presto tutti gli infortunati, Baghera, Cerri, Turchi, e quindi la cosa più importante per me è recuperare appunto questi infortunati. Quello che mi ha soddisfatto è aver ripreso il percorso nella stessa maniera in cui l'abbiamo terminato, parlo a livello di prestazione dove, ripeto, anche se col Bologna avevamo perso, poi spesso e volentieri il risultato fa cambiare la visione un po' della partita, però io penso che sotto l'aspetto del gioco, devo dire che tecnicamente siamo stati più precisi con il Bologna piuttosto che con il Catania, è chiaro che con il Catania abbiamo creato di più e in particolar modo finalizzato e non abbiamo subito gol, che poi alla fine è quello che ti fa vedere le cose in maniera diversa, ciò nonostante però devo dire che con il Catania penso che sia stata una delle più belle partite e da quando sono io qui non mi ricordo aver visto una partita così bella, specialmente per lo spessore della scuola avversaria. Se qualche società dovesse fare avanti per i giocatori delle mie cose, da una parte mi fa piacere perché evidentemente si sta facendo un ottimo lavoro, però dall'altra parte gli dico di tenere giù le mani dei miei giocatori perché devono rimanere qui assolutamente, continuare a quello che stanno facendo perché ripeto, penso che si sta trovando una sintonia di lavoro che è giusto che i ragazzi continuino questo fino a fine anno.